Ciao a tutti, siamo Elena e Gabriele. Siamo due sommelier professionisti. Abbiamo passato questa quarantena nel creare qualcosa di unico per voi. Ma prima di farvi capire cosa, vogliamo farvi pensare a tutte quelle volte che al ristorante o in un locale ti sei sentito magari un pochino a disagio nel dover scegliere un vino. Nel doverlo abbinare. E molte volte invece credo ti sia successo che un vino ti sia piaciuto talmente tanto ma ti sei dispiaciuto di non poterlo descriverlo con le parole giuste, con quelle che più preferisci. Bene, vorreste che queste cose non vi capitassero più? Vi daremo una mano. Abbiamo creato un corso grazie al quale in sole sei lezioni imparerai non solo a capire quali sono le peculiarità dei sei vini che ti spediremo gratuitamente a casa. Ma ti faremo anche capire come viene creato un vino. Quali sono i territori più vocati per la viticultura. E come si possono... come può avvenire quella magia, quel connubio che c'è nell'abbinamento cibo-vino. Esatto. Se vuoi saperne di più, clicca sul link che trovi qui o cercaci sulle nostre pagine Facebook e Instagram o Tomatis Gabriele Wine Blogger. Insomma ci troverai ovunque. Ti ringraziamo per aver visto questo video e a presto. Ciao da Elena e Gabriele. A presto.